Danni a Ginosa Marina ma anche a Castellaneta e Palagianello dopo l'alluvione del 2 marzo dell'anno scorso. Circa 36 milioni di euro di danni sono stati conteggiati dalla provincia di Taranto nell'ultimo aggiornamento della bozza del piano interventi. 36 milioni così suddivisi, 26 milioni e 200 mila euro sono destinati al territorio e restanti 9 milioni e 7 ai privati. Tra questi ammonta 19 milioni e mezzo la quota di Marina di Ginosa su commissari e definizione dei finanziamenti da mesi sta tenendo il fiato sul collo il Comitato Terre Ioniche anche con azioni forti come lo sciopero della fame, l'ultimo giunto al quarto giorno e interrotto da poche ore. I danni per il territorio pugliese, scrive in una nota il portavoce Gianni Fabris, ammontano a quasi 164 milioni di euro senza tenere conto in realtà dei danni alla parte agricola di Ginosa. Non sono pochi spiccioli, continua Fabris, quello di cui abbiamo bisogno ma ben 303 milioni di euro per la Basilicata e quasi 200 per la Puglia. Dunque, avevamo ragione, si tratta di un'enorme ferita aperta su un territorio già piegato dalla crisi, per cui servono risposte vere e non più rinviabili. Sempre Fabris lancia l'ennesimo appello a tutte le istituzioni e alle parti politiche. È arrivato il tempo, dice, di rilanciare e risolvere l'avvertenza perché se il nostro territorio non ha risposte, quando abbiamo un disastro di queste dimensioni, come pensiamo di richiedere dignità sul lavoro, servizi e sviluppo dell'ambiente? Il comitato intanto ha in programma una nuova assemblea per valutare un piano di rilancio dell'avvertenza che coinvolga l'intero territorio e rafforzi i legami con le altre realtà.